In collaborazione con Buonasera a tutti e benvenuti al Medico in Forma. Vi presento subito gli ospiti della trasmissione di questa sera. Sono il professor Umberto Lucangelo, direttore del Dipartimento di Anestesia e Terapia Intensiva e direttore gestionale del Complesso Operatorio Day Surgery di Asugi. Buonasera, è ben arrivato. Buonasera, grazie per l'invito. E la dottoressa Valentina Giuricevic, responsabile della piattaforma Complessi Operatori e Servizi Diagnostico Terapeutici, sempre di Asugi. Buonasera anche a lei. Grazie, grazie mille per l'invito. Grazie di essere qui per parlare della Day Surgery a Trieste. Allora, professor Lucangelo, le chiedo subito che cos'è la Day Surgery, di che cosa si occupa, quali sono le caratteristiche di questo servizio? Beh, questo è un servizio estremamente importante perché, come dice la parola stessa, la chirurgia che si svolge nel ciclo di una giornata. E questo non significa che sia una chirurgia meno impegnativa o che le risorse messe in campo siano minori. anzi, devono garantire proprio che il percorso, il ciclo sia ottimizzato. Questo anche presuppone il fatto che la chirurgia si svolga prevalentemente nell'arco delle ore diurne, quindi debba necessariamente terminare entro un certo limite, nelle prime ore del pomeriggio, proprio per garantire il monitoraggio e garantire anche tutte quelle che sono i percorsi di sicurezza postchirurgici di cui il paziente necessita per poter essere, come dice la chirurgia stessa, dimesso in giornata in sicurezza al domicilio. Ecco, perché appunto dopo l'operazione c'è tutta una fase di controllo naturalmente del paziente. Quali sono le modalità di accesso alla Day Surgery? Le modalità di accesso sono divise a seconda del tipo di chirurgia prevista e a seconda della complessità anche del paziente, nel senso che noi possiamo avere chirurgie che in qualche modo sono ragionevolmente semplici da eseguire in pazienti invece più complessi, perché hanno delle comorbidità. E in questo entra tutto un processo organizzativo estremamente puntuale che prevede qual è la complessità del paziente, stratifica quali sono i rischi del paziente sia chirurgici sia anestesiodici e di conseguenza poi programma dei monitoraggi di recupero nella cosiddetta zona di recovery room, nel recupero post-operatorio, che fanno sì che il percorso del paziente sia ottimizzato. Chiarissimo. Dottoressa Giurissevici, il dottore Lucangelo diceva prima, accennava all'importanza della programmazione, della programmazione proprio di questo tipo di chirurgia, di questo tipo di servizio. Sì, la programmazione viene fatta da noi, viene inviata alle chirurgie che afferiscono alla dei sergeri e loro individuano quali sono gli utenti che verranno inserite nelle slot matutine dedicate alla singola chirurgia e dopodiché la proposta operatoria viene mandata, viene inviata ai moduli per i operatori presso il maggiore. Lo staff infermieristico contatta il cittadino affinché si trovi la giornata per iniziare il modulo di preparazione. Il modulo di preparazione è in un'unica mattinata, da lunedì al venerdì. In particolare questo modulo prevede gli esami ematochimici, l'elettrocardiogramma, l'RX torace se necessario e la visita anestesiologica. La visita anestesiologica è il momento conclusivo in cui viene data l'idoneità del paziente ad essere inserito in quella slot di dei sergeri. Oppure l'anestesista può chiedere degli esami aggiuntivi, quindi verranno dati al cittadino altri appuntamenti per fare per esempio una visita diabetologica o una visita cardiologica, quindi di approfondimento della sua storia clinica. Oppure non verrà data l'idoneità. Questa viene concordata col chirurgo, espressa al cittadino e verrà inserito per esempio nelle liste operatorie a Cattinara della chirurgia ovviamente di appartenenza. L'offerta chirurgica della dei sergeri si offre anche a pazienti fuori regione, quindi questo per noi è molto importante, in particolare per la chirurgia urologica. E anche qui il modulo viene fatto in una giornata e il secondo giorno è la giornata dell'intervento chirurgico. Verrà e proprio, in questo caso. Quali sono le specialità proprio coinvolte dei sergeri? Partiamo dunque da quello che è la disponibilità che il polo tecnologico dell'ospedale maggiore offre di quattro sale operatorie, sono quattro sale operatorie diciamo ad elevata tecnologia, quindi che possono garantire qualsiasi tipo di intervento, le chirurgie che afferiscono sono la chirurgia oculistica, l'odontostomatologica, la chirurgia generale, l'urologia, la chirurgia plastica e anche la chirurgia, la nefrologia per il motivo importante che vengono confezionate gli accessi vascolari del fisto per poter permettere ai pazienti di fare la dialisi, quindi vengono anche accolti e acuditi i pazienti ad elevata complessità che hanno un percorso particolare di attenzione. Diciamo che un paio di dati, ecco, nel 2023 abbiamo sviluppato circa 4.500 interventi, la metà, una buona parte, sono legati all'oculistica perché ovviamente l'oculistica lavorando anche su binari paralleli può sviluppare interventi di cataratta che sono estremamente veloci ma anche estremamente importanti per la popolazione e che prevedono un'organizzazione che è molto puntuale perché, faccio un esempio banale, una sala operatoria che ha 6 ore, 7 ore di disponibilità, se opera 3 pazienti dobbiamo prevedere 3 trasporti ma se ne opera 20, programmare 20 trasporti non è semplice, anche perché il tempo chirurgico è di 10 minuti e magari il tempo del trasporto è di 5, quindi incide pesantemente. Questa programmazione viene fatta in maniera eccellente da tutto lo staff infermieristico e non solo, ma dei moduli da tutto il sistema che permette un rodaggio e un'attivazione veramente eccellente, tanto è che il numero delle cataratte è implementato come richiesto della cittadinanza perché è importante che i nostri anziani possano vedere bene. Possono vedere bene, raccogliamo tante volte anche noi queste segnalazioni delle persone che hanno bisogno, c'è sempre più bisogno della popolazione vecchia, quindi questa forse è una delle casistiche più frequenti con cui vi trovate davvero a che fare. Dicevate quindi che l'organizzazione e la programmazione è essenziale, è importantissima anche per poi quella che è la percezione dei pazienti di questo tipo di servizio. Come lo vivono i pazienti? Ma intanto la day surgery ospita anche interventi e indagini diagnostiche invasive per quanto riguarda il regime ambulatoriale, quindi anche quello si è molto sviluppato negli ultimi anni e quindi una chirurgia ambulatoriale semplice che prevede ovviamente un tempo di monitoraggio sotto le due ore, una chirurgia ambulatoriale complessa che invece prevede un monitoraggio post-operatorio al di sotto delle quattro ore. Poi c'è tutta l'attività di day surgery vera e propria in cui invece c'è un monitoraggio che è superiore alle tre ore e inferiore alle otto ore e per esempio abbiamo tutto quello che riguarda le ernie, lexeresi a livello della mammella, la proctologia e poi abbiamo invece la one day surgery che sono interventi in cui è previsto il pernottamento in cui c'è un monitoraggio superiore alle otto ore e per esempio sono le tulep che sono degli interventi di resezione transureterale a livello prostatico parziali. In particolare il regime e la scelta dove viene indirizzato il paziente su quale regime inserirsi è dettato ovviamente come ha detto il prof da il tipo di chirurgia e qua il chirurgo è anche tra virgolette aiutato in quanto c'è una lista fatta dalla regione dove vengono identificati quali sono gli interventi che possono essere fatti in regime ambulatoriale, poi abbiamo il rischio anestesiologico che è l'ASA che è una classificazione che viene fatta e anche la complessità assistenziale post operatoria. Questi sono dei parametri fondamentali per andare a identificare qual è lo spazio dove viene inserito il cittadino. Chiarissimo, quindi è una organizzazione ferrea, lo diceva anche il professore e anche il motivo lo avete spiegato insomma nella vostra esposizione per cui appunto non si fa una programmazione di interventi al pomeriggio banalmente, si sente spesso parlare di questo argomento. Allora diciamo che in un mondo ideale si potrebbe fare tutto, qua bisogna sempre fare un bilanciamento tra definizioni, percorsi, sicurezza del paziente e ovviamente anche disponibilità delle risorse. Nell'ambito di quella che è la definizione della day surgery, appunto intervento a ciclo diurno con la programmazione prevista dell'osservazione post operatoria, è chiaro che osservare un paziente nelle prime ore del pomeriggio ha un valore e quindi permette una dimissione in sicurezza, pensiamo a un anziano che viene dimesso alle ore 18 e ha i suoi parenti che lo acudiscono, differente è dimetterlo alle ore 22-23 della sera dove ovviamente le situazioni ambientali sono diverse. Noi addirittura cerchiamo anche in particolare l'infermiere dei moduli di capire quali sono le esigenze sociali delle persone e anche attivando ovviamente tutta una serie di curve di sicurezza, di ombrelli di sostentamento se qualcuno ha bisogno dell'assistente sociale oppure si attivano i parenti affinché la dimissione avvenga in sicurezza. Ad esempio una cosa alla quale tengo molto a dire ai cittadini è che ci stiamo da tempo organizzando e siamo partiti con un progetto per i disabili, il progetto DAMA che permette un percorso alle persone necessitanti e differentemente abili di interventi ad esempio odontostomatologici o odoculistici secondo dei criteri che sono di chirurgia standardizzata ma di ambiente completamente diverso. In questo caso coinvolgiamo sia gli operatori sia la famiglia sia tutti coloro che si prendono cura delle esigenze psicologiche della persona. Ecco, lo chiedo a entrambi, ci sono state delle recenti acquisizioni, anche nuove tecniche chirurgiche poi vi chiederò anche delle prospettive per il futuro, per migliorare ulteriormente anche questo servizio. Dunque, da anestesista mi permetto di fare una puntualizzazione come elemento di onore del corpo che rappresento. Ovviamente noi abbiamo un continuo riscontro e continuo dialogo con i nostri partner che sono i chirurghi, la fine dell'intervento e il successo dell'intervento ovviamente è in capo a tutto ciò che è il percorso chirurgico ma che si avvale della collaborazione di tutte le figure. A tal proposito la tecnologia ha permesso a noi anestesisti tramite dei sistemi ecoguidati di poter inserire dei bottoni sottocute attraverso i quali a livello del braccio viene praticata la chemioterapia. Una volta questo tipo di intervento veniva eseguito dal chirurgo in sala operatoria ed occupava uno staff chirurgico ed anestesiologico. Oggi il tutto viene eseguito tramite un centro che si chiama Centro Unico Accessi Bascolari che abbiamo creato in Asugi presso la terapia intensiva dell'ospedale maggiore e la recovery room liberando una sala operatoria che viene dedicata agli interventi di dei surgery. Quindi un esempio di ottimizzazione delle risorse. E' proiettata appunto anche al possibile sviluppo futuro insomma ulteriormente. Certamente in entrambi i campi perché noi siamo diventati un po' più chirurghi e i chirurghi sono diventati un po' più anestesisti nel senso che abbiamo una convergenza su quello che è il bene comune che è il paziente cittadino. Nel suo campo dottoressa c'è qualcosa che ci vuole segnalare? Sì, secondo me l'organizzazione della day surgery sarà sempre di più implementata, crescerà e si svilupperà negli anni proprio perché va a rispondere ad una richiesta molto forte da parte dei bisogni di salute della cittadinanza in questo momento. Proprio perché la day surgery risponde anche a una riduzione della preoccupazione del cittadino che è legata all'ospedalizzazione prolungata, riduce l'angoscia, l'ansia perché il cittadino sa che tornerà a casa breve, riprenderà la propria routine quotidiana, quindi ha risolto il proprio bisogno di salute ma questo non soltanto per la popolazione anziana, la day surgery è rivolta anche a popolazione giovane che è popolazione lavoratrice che quindi deve poi rientrare ai propri ritmi quotidiani, quindi sono anche patologie invalidanti, per esempio il tunnel carpale, quindi la mobilità della mano. Per fare un esempio. Per fare un esempio. La letteratura anche scientifica sia nazionale che internazionale associa la parola day surgery a soddisfazione del cittadino, quindi questo è un forte indicatore per noi di quello che stiamo facendo e della visibilità che le nostre strutture portano al cittadino. Nel 2023 in ASUG è stata fatta un'indagine sulla soddisfazione del cittadino nei nostri servizi e abbiamo avuto un ottimo riscontro, quindi questo ovviamente ci dà un feedback importante di come stiamo lavorando. Continuiamo così. Continuate su questa strada segnata, un ottimo risultato per quanto riguarda anche il gradimento da parte dei pazienti che è altrettanto importante, poi facilita anche il percorso di guarigione completa immagino, in vari campi. Certamente, questo è un percorso che ormai ha 17 anni, ovviamente ci sono stati momenti anche di così più difficili, ricordo purtroppo i covid quando abbiamo dovuto sospendere, gioco forza questo tipo di interventi, però quello che è importante è che la day surgery è un elemento di punta che cerca sempre stimoli nuovi per poter essere sempre più performante. Esempio banale sono anche i farmaci che noi anestesisti usiamo, che sono farmaci elevato a turnove, cioè a rapidissima eliminazione dove forniscono alla persona il recupero quasi immediato di quelle che sono le funzioni psicologiche e neuropsicologiche, senza però alterare quello che è il benessere del paziente e ciò permette di poter essere rapidi, efficaci, ma sempre in curva di sicurezza. E in questo senso immagino vada anche la ricerca nel vostro campo. Nuove tecnologie, nuovi farmaci, ovviamente una chirurgia più snelle, un percorso più snello. Quello che poi vi proponete insomma di portare avanti. Come obiettivo. Certamente. Come obiettivo. Insomma abbiamo conosciuto meglio una realtà ormai ben radicata all'interno dell'azienda sanitaria Asugi e quindi io ringrazio, ringrazio entrambi, il professore Umberto Lucangelo e la dottoressa Valentina Giurissevic per essere stati con noi, per aver illustrato così bene insomma il vostro servizio. Vi auguro buon lavoro e vi invito a tornare a trovarci presto qui alla nostra trasmissione. Grazie mille. Grazie mille. Grazie, grazie anche a tutti voi che ci avete seguito e buon proseguimento di serata.